Al prossimo episodio Lotte Sì stai vanno tutto dalla barca ok Ho, 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 ho Hai sentito che a bene Ma non ci sbagliate perché se la faccio in dietro Dai Bravo, il Vido se la faccio in dietro Ok 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 Hai un po' che tu prende Dai vai mi vedi le gambe? mi vedi le gambe? mi vedi le gambe? mi vedi le gambe? provate a provarmi a vedere le gambe i miei piedi ho la tucca guarda quanto è l'ultima palla anche questa palla le trovo un po' simili guarda, vanno a vedere vanno a vedere vanno a vedere che fa? perchè arriva